Quali sono le priorità della vostra lista? Partiamo da Giulia Gibertoni della lista Movimento 5 Stelle che sostiene il candidato presidente Simone Benini. Buongiorno a tutti, noi vogliamo una revisione delle priorità, una revisione totale delle priorità delle politiche che sono state fatte finora in regione, quindi politiche totalmente fallimentari, quelle del Partito Democratico, che hanno portato a un rischio innanzitutto di uno scempio ambientale potenzialmente senza ritorno, ma soprattutto all'abbandono di territori periferici e all'abbandono anche di possibilità di realizzazione lavorativa per tutte quelle piccole imprese, quei piccoli commercianti che si trovano invece a dover chiudere. Un altro tema fondamentale su cui abbiamo sempre puntato, facendo posizioni in regione, facendo continue proposte, normalmente non mai ascoltate da parte del PD, è un tipo di sanità di prossimità di alto livello, in cui che non lasci indietro territori periferici, siamo contro il depotenziamento degli ospedali e siamo per l'incremento dei posti letto. Noi non possiamo penalizzare i cittadini emiliano-romagnoli che si trovano molto spesso i pronto soccorsi intasati, liste di ricoveri lunghissime e non hanno la possibilità di accedere ad una sanità tanto decantata, ma che in realtà purtroppo vive una fase di smantellamento, vive una fase di grande criticità. Dal punto di vista poi invece anche delle attività produttive, vogliamo incentivare quelle che sono attività produttive virtuose, senza impatto ambientale e non continuare a vedere un sistema basato su discariche e inceneritori, in cui anche i rifiuti sono visti come un settore industriale qualunque, per cui si continuano ad importare, si continuano a smaltire, secondo ricette vecchissime. Parliamo di economia e lavoro, ripartiamo da Giulia Gibertoni del Movimento 5 Stelle per Simone Benini. Serve innanzitutto accesso, serve aprire l'accesso a coloro che vorrebbero magari aprire una piccola impresa in Emilia-Romagna, ma sono fuori dalle reti di protezione e fuori dalle reti di garanzia. Serve quintuplicare il fondo per il microcredito regionale e serve detassare l'IRAP per le piccole imprese e per i piccoli commerci, che ricordo stanno purtroppo chiudendo ogni giorno e sono anche un importante presidio di sicurezza, soprattutto i piccoli commercianti dei centri storici. Serve rivalutare e valorizzare davvero i nostri prodotti tipici, enogastronomici, valorizzare i distretti del cibo, cosa che ancora non è stata fatta. Pensare a un marchio made in Emilia-Romagna, ma che poi andrebbe valorizzato però coerentemente a tutto tondo. Noi purtroppo siamo sempre tristemente noti per essere una delle zone più inquinate a livello europeo. Allora se poi ci dicono che non comprano il nostro grano, perché quel grano lì è prodotto in una parte particolarmente inquinata dell'Emilia-Romagna, che già di per sé ha questa reputazione, capiamo che tutto si tiene. Quindi a partire da ambiente, impatto ambientale, lavoro e sostegno al piccolo, sostegno a chi è fuori appunto, dalle grandi reti, dalle reti di protezione, noi dobbiamo ripartire per aprire l'accesso. Per quanto riguarda l'agricoltura aggiungo anche che bisogna pensare a un ricambio generazionale, al fatto di poter anche lì aprire l'accesso a tutti quei giovani che vogliono fare imprenditoria agricola e che non sanno come cominciare, che non sanno a chi rivolgersi. E poi serve cominciare a pensare che i territori periferici che pagano le tasse devono essere valorizzati proprio a partire dalle loro piccole attività, dalle loro attività produttive, dalle loro idee e da tutto quello che hanno fatto per l'Emilia-Romagna. Il nuovo Giulia Gibertoni del Movimento 5 Stelle per Simone Benini può rivolgersi agli elettori. Dalla sanità pubblica al trasporto, ai disagi veri della quotidianità, ad un ambiente inquinato che fa ammalare le persone in Emilia-Romagna, queste che sono le vere difficoltà della quotidianità, questi problemi, sono entrati in Regione per la prima volta, al di là degli slogan del PD, grazie al Movimento 5 Stelle. Prima di vita quotidiana non se ne parlava in Regione. Noi diciamo che non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B e i territori vanno trattati in modo eco. Questo il PD non l'ha fatto e per questo invece ci siamo noi. Quindi vi invitiamo a votare il Movimento 5 Stelle il 26 gennaio.